Gli tocca, c'è anche il sentiero da lì per salire, ma a quanto ho capito il sentiero da lì... Ma qui lì e di là? Eh, e tu ho detto se lo trovi sulla destra e in alto. Ma dove è l'antena? No, l'antena è a T2. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.